Grazie a tutti Grazie 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 Vi ringraziamo finalmente Pogolioso nostro Padre Pastore Maestro San Catalto per la speciale protezione che in ogni tempo avete accorgato alla nostra città Quante volte avete steso il vostro braccio misericordioso e potente e ci avete salvati dai flagelti che avevamo portato meritabili per la nostra interità la legge di Dio e le sue sante ispirazioni. Qualche volte avete amorosamente allargato le mani per dispensarci le grazie ai favori del cielo. Continuate e vi preghiamo a proteggerci e a beneficarci. Asciugate le nostre lacchime, consolate i nostri cuori, comportateci nelle nostre patiglie, conservate la pace e l'amore nelle nostre famiglie. In cambio, vi rinnoviamo la nostra verena riconoscenza e la promessa a nome di tutti di vivere e volere cristianamente per partecipare insieme con noi alla felicità eterna del paradiso, così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Adesso immagini la linea di San Catalto, del protettore della nostra città, sarà posta all'interno del piostro di San Catalto, una macchina che avete visto è solo stata riposta per ricordare il luogo dove veniva posto, ma il problema non è dove viene posto di San Catalto, il problema è quanto ci teniamo a pregare tra loro, questi giorni, questo loro, dovrebbe essere un'occasione per il passato, ognuno rivolga una preghiera, non solo per le copre situazioni, ma si ricorda che essendo il palazzo di città, una preghiera va rivolta anche per il ministro come il bene preguito, e i nominati dalla santità che si ha dato che possano gestire, che possano provare la forza per guidare, verso una prospettiva, una prospettiva di presa, e soprattutto di rendere tutti i partecipi del telefono. Grazie. 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 Grazie.